Buonasera, come saluto degli imprenditori si siamo spostati a Bergamo, questa sera siamo nel negozio Bang & Olufsen, appunto di Via Baschenis 7, con me Roberto, Roberto Brambilla, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie di averci ospitato questo tuo bellissimo e stupendo negozio. Vedo che state trattando e trattate quella che è la massima qualità nell'espressione della musica, dell'immagine, dell'audio, dell'immagine. Mi vuoi raccontare un pochettino da dove sei nato, com'è arrivata questa idea di Bang & Olufsen a Bergamo? Sì, diciamo che un po' di tempo fa, quindi nel 2003, ho deciso di, con esperienze che avevo fatto precedentemente, nell'elettronica di consumo in generale, mi sono avvicinato a questo brand, che non è italiano ma è danese, che esiste da 90 anni ed è un'esperienza totalmente diversa perché qui stiamo parlando veramente dell'eccellenza degli impianti audio-video. Indubbiamente Bang & Olufsen è una marca che conosciamo tutti, tutte le persone che anche lontanamente hanno un minimo di piacere di sentire una buona musica o di vedere delle belle immagini, sanno che è un marchio, è una garanzia. Però vedo che oggi come oggi Bang & Olufsen, oltre la sua qualità, il suo stile è sempre molto particolare, perché sono prodotti di forme e design particolari, ha anche una linea play. Cosa vuol dire questa linea play? Allora, circa qualche anno fa l'azienda ha deciso comunque di scendere due brand, quindi Beoplay e Beohom. Per quanto riguarda la parte Beoplay si è avvicinata a tutto il mondo che è giovanile, quindi impianti, casse Bluetooth, fruibili dai ragazzi del giorno d'oggi e cuffie, come vedete alle sue spalle, che sono tutti prodotti particolari, design eccetera, ma anche un'eccellenza a livello di qualità di suono, che è la parte che ci differenzia rispetto al resto di tutto il mercato, chiamiamolo così, di impianti audio. Ho sentito dire, perché curioso sempre prima di fare le interviste, che ci sono dei sistemi Wi-Fi, Bluetooth addirittura, se non ho capito male, che io attacco, collego il mio telefonino in casa e me lo porto in giro e per 24 ore sono autoalimentati o sono a batterie. Ho capito bene? Assolutamente sì, ci sono dei prodottini più o meno diciamo abbastanza easy, che possono essere anche messi in una borsa, quindi tolti con degli amici, messi su un tavolo piuttosto che a una festa e vengono utilizzati appunto con Bluetooth oppure con la rete Wi-Fi e questi hanno comunque un'autonomia e si ricaricano come un classico cellulare, quindi dalla musica che uno ha nel proprio cellulare o nel cellulare di amici si può inventare una festa ad hoc per la serata particolare che sta vivendo. Ora io direi che è giusto, si parla di giovani, si parla di bei prodotti, di prodotti di stile, di qualità e soprattutto di alta, alta fedeltà. Però io penso un pochettino alle persone della mia età che cominciano ad arrivare a casa la sera e dicono, oh beh adesso stasera mi voglio vedere un bel film con calma, rilassato. Girando nella parte home del tuo ufficio, del tuo negozio, abbiamo delle immagini che poi magari faremo vedere, ho visto dei bellissimi, perché è inutile dirlo, B e O è sempre cose belle, non sono mai oggetti messi lì a caso, non sono solo tecnologia ma sono stile, sono qualità e prodotto ormai certificato da 90 anni di esperienza. Ma mi ha stupito vedere un grande telescarmo, un grande televisore tutto dinamico che si muove. Sì, diciamo che nella parte home appunto la Bang & Olufsen si definisce un po' particolare in tutti questi meccanismi, curati anche loro nei minimi particolari perché appunto hanno dei movimenti diversi rispetto al resto dei prodotti che ci sono sul mercato e la cosa particolare che da sempre ci contraddistingue è che il telecomando viene utilizzato da sempre per gestire queste parti di accessori, e quindi diventa una cosa fruibile a qualsiasi persona, a qualsiasi età, molto semplice perché è dotato di un display e quindi con un pulsante normalissimo io posso scegliere la fonte, posso scegliere di movimentare lo stand piuttosto che giocarci come voglio, ma l'altra cosa particolare è bella e che dal momento in cui decido di spegnere tutto è come si va in scena in un teatro schiacciando il tasto stop e il televisore si chiude a sipario e ritorna tutto in posizione zero. Questo è bellissimo, è una cosa molto molto d'effetto, lo dico per le persone che non hanno ancora visto, forse abbiamo anche lì delle immagini a copertura e sarebbe bello riportarle, riproporle perché è veramente una cosa delicatissima il movimento e proprio l'immagine che ci dà, ma ho notato che quando si sposta l'audio mi segue, o è stata la mia impressione? No, anche in questo caso la parte fondamentale di BEO è curare esattamente la parte audio, cioè gli schermi sì sono fondamentali a tutto, ma nei nostri televisori pur piatti che siano, pur gli ultimi nati a OLED sono addirittura dei fogli di carta, la parte audio è sempre stata molto importante e curata nei minimi particolari. Nonostante tutto noi abbiamo anche delle casse che vengono utilizzate negli ambienti home e adesso da un periodo a questa parte anche su certe tipologie di macchine automotivi di un certo livello l'impianto audio è fondamentale perché i brevetti che gestiscono questi tipi di casse sono di proprietà di Bank & Dollars. Bene, allora adesso abbiamo parlato di alta qualità, alta qualità di immagini e di audio, ma torniamo allo stile, al design curato, io vedo che dalla vecchia realtà BEO Vision che era già una forma innovativa perché avete creato un televisore quadrato e poco fa appunto Roberto mi raccontava che è venuto fuori all'idea del loro designer vedendo proprio i quadri impilati e dire facciamo un televisore quadrato. Quadrato non vuol dire che abbiamo l'immagine che torna a 4 terzi o quant'altro, ma è proprio il design nell'insieme del video più la sua bella inserto di questa sorta di cassa impianto audio orizzontale rettangolare che ci permette di avere questa forma molto 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 particolare. Ma io sto parlando di Vision ma in realtà dovremmo parlare di Eclipse, l'ultimo nato. Sì, l'ultimo televisore nato appunto con tecnologia pannello OLED ed è nato sulla stessa serie diciamo BEO Vision 14 con questa idea diciamo quadrata del televisore e con un inserto rettangolare che è una cassa abbastanza importante perché l'audio di quella cassa lì sono selto parlanti, circa 600 watt di potenza eccetera eccetera perché comunque nel resto dei televisori nonostante sia piatto l'unico handicap che hanno è la parte audio mentre questo è un televisore dove l'audio è fondamentale. Naturalmente mettiamo insieme sempre la qualità di un design particolare che è sempre quello quadrato con molta qualità dell'audio che è data questa cassa con sei casse particolari di Bang & Olufsen e in via Bescheni 7 abbiamo queste belle cose da acquistare. Ma io le acquisto poi vado a casa e non so come montarli, non so come fare. Voi cosa potete fare per me? Beh assolutamente questo non è un negozio dove uno entra, compra e va a casa ma l'assistenza viene inizia diciamo con un rapporto iniziale dal cliente per vedere che tipo di casa ha, come dovrebbe essere l'allestimento, che tipo di scelta e quindi anche noi lo consigliamo e dopodiché dal momento in cui il cliente decide di acquistare questo tipo di prodotto noi andiamo direttamente a fare il montaggio, la configurazione e l'unico dettaglio che rimane al cliente è scegliere il colore della telina piuttosto che altre casse, ma a livello tecnico viene fatto ed eseguito tutto da noi per dare poi al cliente finale un'installazione completa senza problemi. Anche oggi ci siamo trovati in una realtà lavorativa in una zona che è Bergamo che più che lavorativa di questa ce ne sono poche e comunque vediamo che sempre le aziende, siamo nel 2017 comunque puntano alla personalizzazione, ad essere presenti, ad essere presenti con l'assistenza col consiglio iniziale, perciò voi arrivate da Roberto Brambilla non pensate di entrare a comprare una televisione, punta e basta, o un impianto stereo con tutte le idee chiare che già avrete ma avete una persona che vi dà consulenza insieme ai suoi colleghi che vi spiegheranno e vi seguiranno per avere in casa una realtà estremamente evoluta e piacevole perché lo sappiamo tutti che la casa è una cosa bella ma la televisione è diventata il nostro nuovo focolare. Roberto, cos'altro dirti? io non saprei se non... bene ci vediamo la prossima volta e aspettiamo tutti anche solo per avere un'idea di cosa siamo perfetto, grazie Roberto, grazie a voi, buonasera arrivederci, buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti